Musica Intanto è sempre un onore ricevere un premio di cui siamo particolarmente orgogliosi perché è un riconoscimento che va a tutte le persone e ai professionisti che si impegnano ogni giorno per creare valore. Sono doppiamente contento perché lo riceviamo insieme alla banca a cui io mi sento particolarmente legato che è un partner storico di Elvezia da tanti anni ma che soprattutto da tanti anni è riconosciuta come un'eccellenza per la consulenza assicurativa. Quindi per me vale doppio.